E' tornato in libertà l'ex assessore consigliere regionale Totò Ruggeri. Dopo quasi sette mesi di detenzione domiciliare, il GUP Sergio Tosi ha disposto la revoca della misura cautelare, anche in vertù di quanto aveva stabilito la Corte di Cassazione, annullando con rinvio l'ultimo rigetto del Tribunale del Riesame alle stanze degli Avvocati Giuseppe Fornari e Salvatore Corrado. Coinvolto nell'inchiesta ormai nota come Re Artù, Sesso e Politica, i domiciliari sono stati revocati anche ad Antonio Emergir Norenna, commissario straordinario unico del Consorzio di Bonifica, difeso dall'Avvocato Luigi Covella e Francesco Fasano, sempre in virtù di un provvedimento del GUP a seguito di annullamento con rinvio della Suprema Corte. Per quel che concerne Ruggeri, insomma, la Cassazione aveva ritenuto cessate le esigenze cautelari, una volta dimessosi da tutte le cariche politiche. Rispetto all'istanza di revoca dei domiciliari formulata al GUP, il PM Alessandro Prontera aveva espresso parere contrario. Il GUP ha condiviso invece quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, e ha specificato che non ci sono i concreti e specifici elementi da cui desumere che l'indagato possa reteare reati contro la pubblica amministrazione, nonostante il venir meno della carica di assessore regionale. Ruggeri, inoltre, nelle scorse settimane aveva già ottenuto l'autorizzazione a tornare nella sua azienda per lavorare per ben quattro ore al giorno.